Oggi dobbiamo iniziare un argomento nuovo, il primo concetto che andremo a introdurre sarà quello di estremo superiore. Allora noi siamo in R, prendiamo un sottinsieme di R, qua daremo una serie di definizioni, con la prima definizione che si dice limitato superiormente, supponiamo che sia sempre non vuoto, se no mi devo mettere a fare casi particolari, sia E con deludine R si diverso a R. Se, solo se per definizione, esiste M appartenente a R tale che X è minore uguale di M per ogni X appartenente. Questa definizione è molto semplice, ci dice che sulla retta reale, se qua c'è M, E vive a sinistra di M, cioè può contenere soltanto punti minore uguale di M, può contenere anche M, ma non nessun punto a direttore. Chiaro? ovviamente, ovviamente, se insieme si deve limitato inferiormente, se, solo se, per definizione, M esiste, esiste, chiamiamolo M piccolo, tale che, appartenente a R, tale che X è più grande di M piccolo, però ogni X appartenente. Nel secondo caso, sappiamo che, se ne so, da qualche parte c'è M piccolo, per esempio qua, E vive a destra di M piccolo. definizione E, contenuto in erro, si dice limitato, se, solo se per definizione, E è limitato, Sia, sia, superiormente, che, inferiormente. Se avessi, omesso di dire E diverso dal vuoto, l'inzima vuoto sarebbe stato limitato o no? secondo questa definizione. Certo che si, per quale motivo? Per ogni X appartenente a E, se non ci sono X appartenenti a E, però preferisco, evitare quel caso, perché, le definizioni relative all'insieme vuoto, quando andremo a fare l'estremo superiore, vediamo a parte. Ok? Osservazione, questa osservazione vuol dire che è qualcosa che dimostriamo, una proposizione semplice, semplice da dimostrare, ma è sempre qualcosa che si dimostriamo, remato. E, contenuto in erro, che è diverso dal vuoto, è limitato se, solo se, esiste un M positivo, tale che il valore assoluto di X è maggiore di M per ogni X appartenente, ma maggiore di M, minore o uguale di M. Perché? Allora, se l'insieme è limitato e compreso tra M grande ed M piccolo, quando passiamo al valore assoluto di X, il valore assoluto di X o è più piccolo del valore assoluto di M grande o è più piccolo del valore assoluto di M piccolo, basta prendere, come questo numero, il più grande tra i due e stiamo, facciamo un esempio, se X è compreso tra meno 5 e 3, io qua ci metterò 5, perché un numero compreso tra meno 5 e 3 è anche compreso tra meno 5 e 5, il che significa che il valore assoluto è meno uguale di 5. Se non riuscite a capire questo ragionamento, fatevelo qui di scritto e ripetetelo fino a che non lo avete visto. Viceversa, se abbiamo questa condizione, ovviamente se il valore assoluto è minore o uguale di M, che vuol dire che X è compreso tra meno M grande ed M grande, quindi basta prendere per M piccolo, meno M grande. Cioè facciamo un esempio, se il valore assoluto di X è minore o uguale di 7, che vuol dire che X è compreso tra meno 7 e 7, quindi è limitato dall'alto da 7 e dal basso da meno 7. Dando le definizioni separatamente, per avere la limitatezza superiore e inferiore, possiamo usare numeri che hanno valori assoluti diversi, per esempio, che ne so, meno 3 e 9. Ma se un numero è compreso tra meno 3 e 9, è compreso anche tra meno 9 e 9, il che vuol dire che il valore assoluto è meno uguale di 9. Viceversa, se il valore assoluto è meno uguale di 9, il numero è compreso tra meno 9 e 9. Qua non ci interessa chi sia M grande e chi sia M piccolo, basta che ci siano due numeri per dire illimitati. Quindi, sostanzialmente quando è che un insieme è limitato? Quando è contenuto in un intervallo. Adesso introduciamo queste ulteriori notazioni che dovreste già conoscere. Allora, l'insieme degli x appartenenti a R, tali che x sia minore di un certo A, questo si indica con meno infinito A, vedremo poi perché questo è infinito, si chiama semiretta aperta sinistra, che va da meno infinito fino ad A. Se invece qua ci mettiamo insieme degli x appartenenti a R, tali che x sia minore di un certo A, questa qua si chiamerà semiretta chiusa sinistra, ovviamente se andiamo a prendere insieme i numeri reali, tali che x sia maggiore di A, questo si denota con A, questo si denota con questo simbolo qui, che si chiama semiretta aperta sinistra, se invece andiamo a prendere insieme degli x appartenenti a R, tali che x sia maggiore o uguale di A, questo si denota con A più infinito, e questa qua si chiama semiretta chiusa, destra O. Siccome io sto definendo questi simboli, l'ho scritto ormai in questo modo, quindi userò questa notazione qui. metto i due punti, cosa significano i due punti, i due punti è la stessa cosa come scrivere uguale e def sopra, uguale per definizione, soltanto che i due punti indicano la cosa che sto definendo, cioè questo già lo sai che cos'è, è questo che stai definendo, ok? Simbletta chiusa, destra, chiusa perché c'è altro. Se stiamo in A, meno infinito non ci sta, più infinito non ci sta in ogni caso. Poi lo capiremo meglio perché si usa, questa terminologia è una definizione, quindi non c'è nulla da capire. Quello che potremo capire sarà quando faremo, oggi stesso cominceremo a fare un po' di topologia, allora vedremo che questa terminologia l'abbiamo adottato rispetta, diciamo, alcuni concetti che introdurremo dopo con gli spazi medici, la topologia sui spazi medici, è chiaro fino a qui? Non mi sembra che ci sia nulla di conto. Ok, adesso poi abbiamo gli intervalli, allora chi sono gli intervalli? AB è l'insieme degli x appartenenti a R, tali che x è estremamente compreso tra A e B, quindi questo si chiama intervallo aperto. AB è l'insieme degli x appartenenti a R, tali che x è maggiore o uguale di A e minore di B, e si chiama intervallo semi aperto a sinistra. AB, ci metto questa volta B, uguale insieme degli x, anche qui sto definendo sempre il simbolo che sta a sinistra, in tali che x è maggiore di A e minore o uguale di B, e questo qua è un intervallo semi aperto a destra. Infine, AB con le parentesi chiuse, è l'insieme degli x appartenenti a R, tali che x è il compreso tra A e B, se questo qua si chiama intervallo chiuso. Allora, vediamo se avete capito. Quando è che un insieme è limitato superiormente? Qual è una condizione equivalente a dire che un insieme è limitato superiormente? Utilizzando gli intervalli delle semi aperto. Quando? Allora, dire che esiste un elemento, un numero reale, tale che x è minore o uguale di N, dal punto di vista insiemistico, però di x appartenenti a D, cosa significa? Tutti i valori non sono maggiori di N. dal punto di vista insiemistico, che è contenuto dove? Dove vive? Ti ho fatto pure di sì. A sinistra di N, cioè? Dovrà essere contenuto in un intervallo? Magari sì, però non lo sappiamo. È contenuto in una semiretta aperta a destra? O in semiretta chiusa a destra? Da meno infinito a destra. Ah, da meno infinito a destra. Cioè in una semiretta a sinistra. E se fosse contenuto in una semiretta a sinistra? Aperta o chiusa? Come sta scritto qua, è chiusa. Ma se ci mettessi minore, sarebbe esattamente la stessa definizione. Perché? Perché se fosse contenuto in una semiretta che va fino a 3, 3 escluso, chiaramente è contenuto in una semiretta che va anche fino a 3, 3 incluso. Ma uno dice, ma se è contenuto in una semiretta chiusa, non è contenuto in una semiretta aperta? Certo è contenuto in una semiretta aperta. Basta prendi invece di 3, prendi 4. Quindi, la condizione equivalente a dire che un insieme è liquidato superiormente è che sia contenuto in una semiretta destra, in una semiretta sinistra. Cioè, una semiretta è fatta semiretta, la minima. Quando è che è contenuto, quando è che è limitato inferiormente? Ovviamente, è semiretta. Quando sarà contenuto in una semiretta? Destra. Vedete, vive da m piccolo in poi, quindi sta nella semiretta destra m piccolo. E quando è che è limitato? Quando è contenuto in un intervallo? Aperto o chiuso? O semiaperto? È indifferente. Se è contenuto in un intervallo, è limitato. Prendete l'intervallo, allora, prendete tutti e 4 questi intervalli. È limitato questo? È compreso tra eb. 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 Questo è contenuto in un intervallo aperto? Sì. È contenuto in un intervallo aperto? A meno 1, b più 1. 2, 5, chiuso? È contenuto in un intervallo aperto? Passa che l'intervallo aperto rende un po' più grato. Dovete ragionare. Analisi. Se non riesci a ragionare un minimo, non combinerai mai nulla. Cioè, non basta. Le definizioni, non basta. Queste definizioni vi vengono date affinché le usiate come i calendari. Quindi dovete usarle e sapetele usare. Ci dovete sapere, ragionare. È chiaro? Ok. Adesso. Cancello qui. C'è l'intervallo. C'è l'intervallo. C'è l'intervallo. x0 appartenente ad e si dice massimo di e se solo se x è minore o uguale a x con 0 però x appartenente ad e allora, adesso abbiamo un insieme di e un insieme di r prendiamo un punto di questo sotto insieme lo chiamiamo massimo dell'insieme se tutti gli alternamenti non lo superano non superano allora vediamo se l'avete capito ripeto, è una definizione quindi in realtà non c'è nulla da capire c'è da capire nel senso di saperlo applicare qua ci posso mettere minore? no perché se ci metto x con 0 x con 0 è uguale a x con 0 quindi non è minore quindi almeno in un caso deve essere uguale quanti massimi può avere al massimo 1 perché al massimo 1? supponiamo che ne abbia due allora c'è x con 0 e x con 1 allora che deve succedere? siccome sono massimi x con 1 deve essere minore o uguale a x con 0 e x con 0 deve essere minore o uguale x con 1 e quindi perché? proprietà antisimmetrica della relazione d'ordine se vi ricordate se A è minore o uguale di B e B è minore o uguale di A se il numero di B è A A uguale quindi massimi ce ne sta uno quindi osservazione il massimo IE se esiste è unico questa qua l'abbiamo fatta l'abbiamo dimostrata a volte se non per iscritto lo mettete voi lo fate a casa e andate a guardare la video lezione fino a che non avete capito il ragionamento tanto sta registrato quindi andate avanti e dietro fino a che guardate perché dico se esiste perché potrebbe non esserci facciamo un esempio di un insieme che non ha massimo abbiamo premesso che l'insieme deve essere non messo altrimenti un insieme non vende un insieme sta là è fisico non si muove sì però prendiamone uno limitato allora prendiamo questo intervallo qua ne abbiamo introdotti gli intervalli 0,1 ci sta un punto allora adesso vi faccio la dimostrazione che questo insieme non ha massimo sia e non ha massimo 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 allora come facciamo facciamo la dimostrazione per assurdo vi ricordate per assurdo per assurdo proviamo a supporre che esista un massimo sia per assurdo x con 0 uguale max di e allora x con 0 è compreso tra 0 e 1 ma allora e qual è il motivo? perché deve essere un elemento di e gli elementi di e sono compresi tra 0 e 1 ma allora x con 0 che è maggiore di 0 e anche minore nel punto medio tra 1 e x con 0 x con 0 1 1 più x con 0 mezzi quando faccio il punto medio tra due elementi distinti che x con 0 e 1 sono distinti sono diversi questo numero sarà maggiore di x con 0 e minore di 1 e questo è assurdo qual è il motivo? questo è un elemento di e che è più grande di x con 0 e cosa deve essere il massimo? deve essere più grande di tutti gli elementi di e mentre invece esiste un elemento di e più grande per capirci 0,9 può essere il massimo di questo? no perché 0,95 è più grande di lui e meno di 1 0,99 può essere il massimo di questo? no perché 0,99 è minore di 0,995 che è minore di 1 0,500 no prendete tanti 9 di fila e poi metteteci e basta può essere il massimo? no perché prendete tutti quei 9 ci aggiungete un 5 e quello là sarà maggiore di quello di prima e meno di 1 allora uno potrebbe dire 0,9 con infiniti 9 è il massimo è 9 perché il massimo è in quel caso è 1 vi ricordate che abbiamo visto che 0,99 è 1 e 1 nell'insieme non ci sta chiaro? allora se qualcuno se qualcuno gli fa male la testa da una parte una minima ragione ce l'ha dall'altra parte no perché una minima ragione ce l'ha? perché tutto questo impianto che ho fatto a partire da stamattina vale esclusivamente in matematica non esiste allora ipotizziamo di fare una stecchetta di lunghezza 1 di lunghezza 1 di un metallo bello che significa che tu gli estremi ce li metti gli estremi non ce li metti non significa nulla cioè ci vuoi tagli un punto? no invece in matematica sulla letta reale noi abbiamo che ogni elemento corrisponde un punto se ci metto quell'elemento ci metto quel punto se ci trovo quell'elemento ci sto togliendo un punto questo è possibile in matematica ma allora perché ci prendiamo dei modelli che evidentemente non rispecchiano la realtà no no i modelli vanno molto bene per capire tante cose della realtà certamente io non lo posso fare esattamente di rimuovere un punto dalla mia stecchetta materiale però posso rimuovere poco poco allora idealmente io idealizzo la situazione e dico che posso rimuovere il singolo punto e ragiono di conseguenza l'importante è che questi ragionamenti non conducano a contraddizione se io do la definizione opportuna semplicemente questo insieme non c'è nessuna contraddizione questo insieme il massimo non ce l'ha quindi dato un insieme quanti massimi può avere o nessuno oppure se c'è un elemento nell'insieme che è più grande di tutto è il massimo se no no chiaro? ok ma ovviamente se invece di massimo vogliamo introdurre il concetto di minimo cosa cambia? cambia la disguaglia qui bene però a noi in qualche modo dà fastidio che sto massimo ci sta non ci sta allora per esempio così insieme ce l'ha il minimo? no se ce l'avesse chi dovrebbe essere? zero ma non c'è e non ce l'ha fate un ragionamento simile a questo quindi questo insieme non ha né massimo né minimo se scrivo così questo insieme ce l'ha il massimo? no no se ce l'ha la prima non ce la manco non ce l'ha il minimo? sì stavolta ce l'ha allora questa situazione non è particolarmente soddisfacente ce la teniamo perché ce la dobbiamo tenere però possiamo costruire subito un altro concetto che ci sarà sempre il quale ci sarà sempre allora preferisco cancellare questa lavagna che Allora prendiamo un insieme non vuoto, M appartenente a R si dice maggiorante di E Allora, questa definizione è esattamente la stessa di quando l'insieme era limitato è esattamente la stessa, più specificamente M è un maggiorante quando l'insieme è limitato del contenuto della semiretta meno infinito, è più specifica, dice di più ma la definizione è uguale, la stessa di più, diciamo la condizione è la stessa di più, quindi che vuol dire che 10 è un maggiorante di un oggetto insieme e tutti insieme vivono la stessa di 10, ok? Allora vediamo, prendiamo questo insieme qua, N, vi ricordate chi è N? 1, 2, 3, tutti noi vi sapete nominare un maggiorante di N? Perché? Ci sta un maggiorante di N? E chi è? Non esiste, perché non esiste, perché N non è limitato, non perché è infinito se io prendo l'insieme 0,1, l'intervallo 0,1, il massimo, i maggioranti ci stanno ma l'insieme 0,1 ha infinito, è infinito perché questo non è limitato superiormente ci sta il minimo, la situazione ci sta, vabbè poi il minorante minorante allora, mi dici un minorante di questo? 0, va bene poi anche? anche 1, va bene poi anche? meno 1, meno radice di 2 siamo in R questo è N ma il minorante deve stare in R minorante ce ne stanno tante N per noi parte, perché anche 1 va bene perché per noi N parte da 1 quindi 1 è un minorante qua c'è anche un quadro però se va bene 1 no, va bene anche 0 va bene anche 1 mezzo va bene anche meno 1 mezzo va bene anche meno radical 2 va bene anche meno 10 è chiaro? allora, quindi questo insieme possiede maggioranti? no possiede minoranti? quanti ce ne ha di minoranti? più precisamente chi sono i minoranti? tutti i numeri tutti i numeri da meno infinito da meno infinito fino a 1 1 compreso allora, 1 che proprietà ha? è il più grande dei minoranti ok adesso andiamo a dare la seguente definizione questa è una delle definizioni che in matematica non si dovrebbero dare e poi spiego meglio perché per andare a spiegare questa definizione dobbiamo andare a dimostrare un teorema cioè la definizione con i teoremi non ci dovrebbero avere niente a che fare la definizione si dice questa allora sia e ovviamente questa non è solo una definizione è una definizione complessa se vogliamo dire così lo spieghiamo bene sia e contenuto in r e diverso dal vuoto e limitato superiormente ok? perché dico limitato superiormente? così sono sicuro che esiste almeno un maggiorante perché se non era limitato superiormente ad esempio a n dei maggioranti di E si dice estremo superiore di E uguale il minimo dell'insieme dei maggioranti di E di E quindi qui è l'estremo superiore di un insieme limitato superiormente? a vuoto il minimo dei maggioranti di E dove sta il problema che richiede una dimostrazione? abbiamo visto i sotto insieme di R ce l'avevano sempre il minimo? no qualche volta si e chi ci dice che l'insieme dei maggioranti di E cambia il minimo se ce l'ha quello è unico e lo chiamo estremo superiore e ma se non ce l'ha do lo unico allora questa definizione si dovrebbe enunciare in maniera diversa prima facciamo un diorema in realtà lo facciamo adesso dopo il diorema quindi questa non è una definizione è un teorema seguito da una definizione è chiaro? quindi qual'è il teorema? il teorema lo scriviamo qua dietro il teorema è contenuto in E è diverso dal vuoto è limitato superiormente sia A uguale chiamiamolo B l'insieme dei maggioranti di E allora esiste il minimo di B questo minimo si chiama estremo superiore di A allora dimostrazione come sono fatti i maggioranti di un insieme? sono una semiretrica questo lo sappiamo perché se ci sta un elemento ci stanno anche tutti quelli apprezzati quindi deve essere per forza una semiretrica ok? allora fatemi cancellare qua allora sia B come sopra e prendiamo che sia A uguale R-B chi sono R-B? i non maggioranti per esempio vediamo se avete capito prendiamo l'intervallo 0-1 chi sono i maggioranti di 0-1? tutti i numeri da? 1 il B chi sono i non maggioranti di 0-1? tutti i numeri? da meno infinito A? A1 no sono i complementari di D non da meno infinito a 0 quelli sono i minoranti qua abbiamo detto non maggioranti allora vediamo un po' qua dentro il più basso sarà alto un metro e sessanta e qualcosa e il più alto sarà alto un metro e novanta e qualcosa mettiamo un metro e sessanta e un metro e novanta e sette ok? no 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 ok? allora se uno è arriva qua uno alto di uno e sessanta è minorante perché è più basso di tutti noi se arriva alto uno a due metri è maggiorante perché è più alto di tutti noi se arriva uno alto un metro e settantacinque non è né minorante né maggiorante ma in ogni caso non è maggiorante perché ci sta qualcuno qua dentro più alto di lui se io prendo da voi uno alto un metro e settantacinque non è maggiorante quindi non maggiorante non significa minorante ok? allora dico che AB è una sezione di R che vuol dire che sono due semi reti con l'elemento di separazione però cosa significa la sezione? A unito B quanto fa? è sul calcolamentario per definizione quindi fa R A intersecato B fa il vuoto e poi se x appartiene ad A e y appartiene a B esiste T appartenente ad E tale che tale che x è minore di T che è minore o uguale di y per quale motivo? x non sta in A ma se sta in A non sta in B ma se non sta in B vuol dire che non è un maggiorante che significa che che deve esistere un elemento di E più grande di E ma allora y sta in B deve essere maggiore o uguale di ogni elemento di E quindi abbiamo queste disuguaglianze x minore di T minore o uguale di x e quindi x è minore di T questo cosa dice? che è una sezione se vi ricordate per avere una sezione non bastavano queste due condizioni bisogna dire che tutti gli elementi di A fossero più piccoli di tutti gli elementi di B quindi fino a qui ci siamo cosa sappiamo noi quando abbiamo lo spiegato dei numeri reali abbiamo detto che se andiamo a fare una sezione del campo reale cosa esce fuori? un numero reale quindi esiste un unico z appartenente a R tale che x è minore o uguale di z che è minore o uguale di y per ogni x appartenente ad A e y appartenente a B cioè faccio il disegno qui abbiamo qua ci stanno i non maggioranti qua ci stanno i maggioranti e qua ci sta quello che abbiamo chiamato elemento di separazione quindi noi abbiamo i non maggioranti chi sono? sono meno infinito z i maggioranti sono z a più infinito allora quello che dice il teorema è che l'elemento di separazione sta sempre a destra sta sempre dalla parte del maggior ah dice che ne so potrebbe sta a sinistra lo dobbiamo ancora potrebbe essere così no? in teoria ma in realtà ecco non può stare ovviamente in tutti e due perché gli insiemi hanno intersezione vuota allora come si dimostra questa cosa? si dimostra per assurdo supponiamo per assurdo z appartenente ad a allora da questa vedete z è più grande di x da ogni x di a quindi z è il max di a se z sta in a deve essere il massimo di a tuttavia esiste t appartenente ad e tale che z è minore di t se sta in a non è un maggiorante come prima x sta in a esiste t appartenente ad e maggiore di x z sta in a esiste un altro t appartenente ad e maggiore di z ma allora z è più piccolo di t più z mezzi che è più piccolo di t e questo è assurdo perché? questo è un maggiorante? no perché è minore di t allora sta in a ma è un numero che sta in a più grande di z ma se z stava in a era il massimo abbiamo raggiunto un assurdo è chiaro? i non maggioranti i non maggioranti non possono avere un massimo io prendo un non maggiorante ci sta qualcosa in e a testa di lui ma allora tutti gli uomini che stanno qua in mezzo sono ancora non maggioranti più grande di z quindi z i non maggioranti in massimo non ce l'hanno non ce la possono avere allora se z non sta in a siccome a unito b fa r deve stare in b e se sta in b è il minimo del maggior capisco? questo è il primo teorema un po' più difficile ma è così quindi ricapitolando prima di fare una pausa rigami davanti cosa abbiamo visto? abbiamo visto tutta una serie di definizioni poi abbiamo visto i concetti di insieme limitato superiormente e inferiormente poi abbiamo visto i concetti di massimo e minimo che non ci stanno sempre qualche volta sì qualche volta no però abbiamo visto che un insieme limitato superiormente se non ha il massimo comunque ha un concetto surrogato del massimo l'estremo superiore facciamo un esempio se io prendo l'intervallo 0,1 il massimo ci sta? no l'estremo superiore ci sta? sì e chi è? 1 è il minimo dei maggioranti i maggioranti sono quelli che vanno da 1 a infinito i non maggioranti sono quelli che vanno da meno infinito a 1 il minimo dei maggioranti fa 1 l'estremo superiore fa 1 praticamente l'estremo superiore è quello che sarebbe il massimo se appartenesse agli z là ci manca 1 cioè il massimo che vicino a 1 ci avvicini tanto quanto vuoi no? perché nell'intervallo 0,1 abbiamo visto che ci sta 0,9 0,99 0,999 0,999 9,999 ma 0,9 periodico non c'è perché fa 1 quindi a quel numero ci avvicini quanto vuoi ma non ci arrivi mai però se appartenesse all'insieme ne sarebbe i massimo cioè ci si può avvicinare indefinitamente a quel numero anche 2 se appartenesse a quell'insieme sarebbe il massimo ma a 2 non ci possiamo avvicinare indefinitamente invece a 1 ci possiamo avvicinare indefinitamente e se appartenesse all'insieme sarebbe i massimo quello è il congetto dell'estremo superiore formalmente l'estremo superiore chi è? è il minimo dei maggioranti tipicamente come funziona? tipico esame di analisi chi ha l'estremo superiore? vabbè se l'insieme è limitato superiormente non vuote è il minimo dei maggioranti e chi mi dice che l'insieme dei maggioranti ha un minimo? ok se vuoi lo dimostro chiaro? ok quindi esiste il minimo dei maggioranti e questo minimo dei maggioranti si chiama estremo superiore passo grazie grazie